A Fogliano della Echiana un investimento di oltre 650.000 euro per migliorare la cittadella dello sport. Il Comune infatti ha vinto un bando regionale assicurandosi così risorse importanti per migliorare e rendere più sicuri ed accoglienti gli impianti sportivi. Siamo felici di questo nuovo bando vinto, 650.000 euro per la nostra cittadella dello sport, di cui 360.000 finanziati dal bando della regione toscana. Un bando a cui abbiamo lavorato molto nella scorsa legislatura e che siamo riusciti ad ottenere in questa nuova. L'abbiamo comunicato anche all'associazione Calcio Fogliano che è rimasta molto soddisfatta. L'intervento riguarderà la riqualificazione e il rifacimento completo del vecchio campo da tennis che diventerà un'area polivalente. Un importante intervento di adeguamento sismico e di rifacimento completo della copertura dello stadio dei Pini. E soprattutto un'importante azione di efficientamento energetico attraverso l'installazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico che andranno ad abbattere i costi fissi di quest'area. Oltre ad altri piccoli interventi minori e più puntuali sulle strutture esistenti. Nei prossimi mesi sarà predisposto il progetto esecutivo, dopodiché via le procedure di affidamento dei lavori che si svolgeranno nel corso del 2025. Poi gli investimenti continueranno anche per l'area che riguarda la pallavolo, il campo secondario in erba sintetica e la piscina comunale.